La figlia di Maria Teresa Aruta Gwendagoria, la figlia di Maria Teresa Aruta, età, fidanzato, vita privata Gwendagoria è la figlia di Maria Teresa Aruta e Amedeo Goria, età, lavoro, fidanzato, vita privata Gwendagoria è la figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria e della conduttrice televisiva Maria Teresa Aruta. Gwendagoria ha 28 anni, è nata il 4 dicembre 1988, ed è un'attrice Di recente ha preso parte alla prima e seconda stagione della fiction Rai Il Paradiso delle Signore, accanto a Giusy Buscemi, Alessandro Tersigni e Giuseppe Zenno. Ma la giovane Goria ha lavorato anche al cinema e in teatro Per il grande schermo ha preso parte a Il racconto dei racconti, uno degli ultimi film del grande regista Matteo Garrone La figlia d'arte, oltre a recitare, si occupa pure di regia e sul palco scenico a diretto qualche tempo fa persino la madre. Un'esperienza unica ed entusiasmante che ha unito ancora di più le due, dopo n'infanzia non proprio idilliaca Gwendagoria, vita privata, il rapporto con i genitori Amedeo Goria e Maria Teresa Aruta Ho avuto un'educazione molto rigida e, allo stesso tempo, zingaresca. Mi spiego, mia mamma era molto esigente e io studiavo pianoforte, danza, scherma, ero una delle prime della classe. Sono cresciuta con molte ansie perché dovevo sempre dare il massimo. Allo stesso tempo vivevo in una famiglia dove non c'erano orari, non esisteva una progettualità e ha fatto sapere Gwendag al settimanale F. Il commento sulla sua famiglia è stato piuttosto duro sulle pagine della rivista Gente. Non c'erano mai, non ho memoria della famiglia unita e non ho vissuto come un trauma la loro separazione ha raccontato la Goria. Io e mio fratello Gian Amaddeo siamo stati cresciuti da una tata, la dolce Ornella. Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io far da padre e madre a loro e non viceversa ha puntualizzato l'attrice. Gwendagoria fidanzato della figlia di Maria Teresa Aruta, chi è Stefano? Gwendagoria che in passato ha preso parte all'Isola dei Famosi e è fidanzata da ben 12 anni con Stefano, un imprenditore romano. L'uomo è 20 anni più grande dell'interprete ma la differenza d'età non è mai stato un problema per la coppia. Quando ci ho parlato per la prima volta io avevo solo 16 anni, lui 36. Mi parlò di responsabilità, parola magica per me ha rivelato la figlia di Maria Teresa Aruta. Grazie a tutti.